E' meglio una fotocamera piccolina come questa che quella roba che di solito si utilizza. Vabbè che c'è un video migliore, vabbè che c'è tutta un'immagine più definita, l'audio migliore e tutto. Però una GoPro Hero Plus è veramente piccolissima, veramente piccolissima. E' molto comoda per fare video in giro, la posso attaccare in auto, la posso attaccare ovunque, ma la posso portare dentro la borsa senza preoccupazione che si rompa e tutto il resto. Vabbè adesso la testiamo, vediamo come funziona, come va, come registra l'audio e tutto il resto. Lo so che l'audio ha dei piccoli problemi perché si sentono dei frusci sotto e non è proprio bellissimo, però l'audio è molto migliore della Hero 5 Black. La Hero 5 è proprio ingestibile. Va bene, vediamo un po' come va a finire. Continua il test, qui illuminazione unicamente stradale. Vedo che la camera tende a colorare molto le luci. Però comunque ha una buona sensibilità. Perché nel display vedo più o meno la stessa luce che c'è qui illuminata. Adesso non so la definizione perché nello scormetto piccolo non è che viene... Che viene... che si può fare valutazioni. Ecco lo Roy che traina come un assassino. Comunque vabbè dai. Dallo schermetto piccolo sembra che di luce ne entra abbastanza per riprendere con illuminazione stradale. Adesso faremo poi il test in auto, sempre notturno perché stasera vado in studio. Un incontro con Gaetano per finire una canzone di un altro progetto. Ci vediamo dopo. Adesso siamo in una zona illuminata da luce a led bianca, completamente bianca. Scusate se il cane tira come un cindiale. Allora, quindi adesso si comporta molto bene. Mi sembra di capire che il video è più che buono. Però prima ho visto che la camera faceva qualche difficoltà per quanto riguarda il bilanciamento del bianco. Questa camera ce l'ha solo in automatico. Non è che più si può fare manualmente. E quando le luci si stavano accendendo, perché sono arrivato che erano ancora mezzo accese, si dovevano scaldare un po'. Ho fatto caso che siccome l'illuminazione stradale è rossa e più è bianca, la camera non riusciva bene a scegliere tra una colorazione fredda o una colorazione calda. Calda, nel caso in cui ha molta luce bianca nel sensore, invece sceglie la temperatura più fredda se il sensore becca più luci sul rosso. Ho visto che faceva qualche difficoltà a capire quale colorazione scegliere. Ricordo che questa camera è quasi completamente automatica, a parte pochissime impostazioni come lo spot meter, che non è altro che il mirino dell'illuminazione automatica. Con lo spot meter attivo la camera va a settare la luminosità considerando il centro dell'inquadratura. Invece con lo spot meter disattivato la camera sceglie la luminosità valutando tutta l'inquadratura che ha. Ad esempio se con lo spot meter attivo illuminiamo il lampadario, tutto quello che c'è intorno al lampadario si scurisce, mentre con lo spot meter disattivato invece vediamo che abbiamo sia la luce del lampadario sia anche quello che c'è intorno, ecco, per capirci. Almeno prima ho fatto la prova così è successo. Va bene, poi faremo la prova in macchina con tutte le vibrazioni e tutti i rumori dell'abitacolo mentre la macchina è in moto. Adesso ora andiamo a casa però, eh, so più fame. Dai. Ok, in auto, illuminazione stradale che dà sul giallo, come ben potrete vedere. Adesso andiamo piano, però secondo me quando raggiungeremo una velocità intorno ai 50-60 all'ora sicuramente l'audio peggiorerà. Siamo intorno ai 50 km orari, zona completamente buia, solo illuminata dalle macchine. Qui stiamo sopra un ponte. Speriamo che l'audio regga. Lavoro in corso continuamente, continuamente, continuamente. L'Italia dei cantieri. Ok, vediamo qua come si comporta. Wow. Va più che bene. Illuminazione media. Bene, allora, l'unico problema, secondo me, di questa camera, le uniche pecche, sono che a bassa luminosità non registra per niente bene. Vabbè, ma questo è ovvio. Sensore piccolino, non è studiata per questo la camera, quindi... Però, secondo me, si difende anche molto bene, perché non tutte le camere riescono comunque a dare questo tipo di luce con una plafomiera a neon che illumina veramente pochissimo. Si difende molto bene. Un'altra becca è l'audio. L'audio non è buonissimo, ma comunque molto meglio della GoPro 5. La GoPro 5 è ingestibile. Basta tenere in mano, come sto facendo adesso, la GoPro con un unicavalletto che già lo spostare delle dita sul cavallettino già genera tante di quelle vibrazioni che la camera proprio non riesce a gestire. E allora, questa camera, quindi, ha una buona durata della batteria. Per quanto riguarda le regolazioni che è possibile fare a mano, sono, come dicevo prima, lo spot meter. Sono il cambio tra palle NTSC, i fotogrammi 30, 60, 25, 50. E' possibile fare timelapse, ma mi sembra con un valore impostato, impostato è quello e basta. Questa camera registra praticamente in automatico, quindi non è possibile andare ad interagire per quanto riguarda i vari settaggi della ripresa. Quindi, io reputo che questa camera, per fare dei vlog semplici, così veloci, senza troppe pretese, va benissimo. E il display dietro è touch, quindi è molto sensibile, quindi risponde benissimo, mentre io con la GoPro 5 ho avuto serie di problemi, con il touchscreen che a volte non mi funziona proprio. Va bene, a parte questo, forse ho preso una camera difettosa, non so. Magari fatemi sapere se anche voi, se avete una GoPro 5, vi dà gli stessi problemi. Mentre la GoPro 7 mi sembra che ha migliorato tutti questi difetti, come l'audio, come il touchscreen e altre cose. Quindi, io sto parlando della GoPro 5, eh. Non è possibile collegare un microfono esterno, ovviamente, se non l'avevo già fatto. Questo è una pecca, ma comunque la camera è studiata per essere una action cam, quindi non possiamo aspettarci tante cose. Mentre la GoPro 4, anche la 3, mi sembra, anche la 2, dovrebbe avere la possibilità di attaccare il microfono esterno, come la 5, la 6, la 7, eccetera. Faccio un attimo sentire il rumore di fondo che genera il microfono della camera. Permetto che qui di fianco c'è la statale, quindi si potrebbero sentire rumori di auto o altro. Però sentite un po' i frusci che vengono fuori. Ho appena dato un'occhiata a qualche clip registrata prima di fare il montaggio e mi sono reso conto che, per quanto riguarda l'audio, per migliorarlo un po', siccome questa camera prende molte basse, quindi magari quando si fa il montaggio, se si fa con un programma che lo permette, bisogna andare, secondo me, nella traccia audio e tramite l'equalizzatore togliere un po' di basse, magari a tagliarle fino a 50-80, ok? Così facendo l'audio migliora molto. Adesso facciamo un attimo una prova con l'audio normale, che sarebbe questo. Questo è l'audio normale, normalissimo, normalissimo. Adesso passiamo all'audio equalizzato. Questo qui è l'audio equalizzato, quindi adesso si dovrebbero sentire meno basse e l'audio un po' più cristallino, un po' più chiaro. Quindi rifacciamo la prova. Audio non equalizzato, con tutte le basse e tutto il resto, come viene registrato dalla camera. Audio equalizzato togliendo le basse. E quindi questo è l'audio migliorato. Con questa vi saluto, spero di aver fatto un video utile. Se avete qualsiasi domanda fatemi sapere. Ciao, ciao, ciao.